Riparte il cammino in campionato della Turris che sarà impegnata nella trasferta dello stadio San Nicola di Bari nel primo match del 2021. I ragazzi di mister Franco Fabiano cercheranno di riprendere così come terminate 2020 con la vittoria nel derby contro la Cavese. Non un impegno facile per i corallini che affrontano la compagine pugliese su un campo sicuramente ostico. La squadra della famiglia dell'Arenti si è alla ricerca di punti importanti per dare la caccia alla capolista solitaria Ternana. Ma la Turris in questa stagione ha precedenti trasferta che lasciano ben sperare come i pareggi contro Ternana e Foggia e la vittoria a Renzo Barbera di Palermo. Proprio la sfida con il Bari rieveca dolci ricordi per la piazza seppur la squadra di Torre del Greco non ha mai vinto in casa dei Galli. In quattro precedenti infatti sono tre le sconfitte in un solo pareggio per 0-0 nell'ultimo incontro disputato nel 2018. A dirigere il match sarà l'arbitro Federico Longo che ha già arbitrato i corallini in occasione del 2-2 in trasferta da Avellino dello scorso 28 ottobre. Intanto in questi giorni è ripartito anche il calcio mercato. La squadra offre già garanzia al tecnico Fabiano ma il direttore dell'area tecnica Rosario Primicile resterà sugli attenti per eventuali occasioni di mercato. Non mancano le sirene per i calciatori che hanno ben impressionato in questa prima parte di campionato ma la volontà è quella di rimanere compatte in vista dei prossimi impegni, cruciali per capire le ambizioni della squadra. Tra calcio e mercato parte il 2021 della Turris nella speranza che sia un anno ricco di soddisfazione per i tifosi. Grazie a tutti.